Bonucci, Gucinic, bella palla per Marchisio, Marchisio cerca Vidal all'inite, gira il pallone, Pepe Marchetti strepitoso! Cezzana a chiudere, Pirlo finta con il sinistro, rientra col destro, il cross, il controllo, Pepe, Rote, Rote, aio in vantaggio! Vidal da fuori era, visto fuori dai palli, Marchetti! Vidal strepitoso, ma strepitoso anche Marchetti, calcio spettacolo allo Juventus Stadium, poi parte Licksteiner, non lo tiene Candreva, c'è la Licksteiner, pallone in aria, si gira, guagliarella, Marchetti! In verticale per Licksteiner, non ci arriva Garrido, Licksteiner dal fondo, il lacrosso, una deviazione, Bonucci, di a chiudere, mostruoso, palla che si impenna e va sopra la traversa! Per il sinistro, bella apertura per Scaloni, che è libertà, a destra, palla a cross Scaloni, palla in mezzo, Mauri, Rote, in pari dalla Lazio! Lancio per Bursiric, in aria, Bursiric! Per qui l'ha perso Scaloni. Va bene così, dice D'Amato, anche se la barriera sarà a meno di 9 metri, parte Del Piero, Rote, Del Piero! Ma che giocatore è questo, diciamolo! Ultima azione, guarda il cronometro da Mato, avanza la desba, ma è game over alla Juventus Stadium! Un gol di Del Piero, regala tre punti pesantissimi alla Juve! Un gol di Del Piero, regala tre punti pesanti 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 pes